Giorgia Campanella dell'Associazione Roseto Danza, avete organizzato questo evento oggi molto interessante qui al liceo di Roseto per parlare del problema dei disturbi alimentari che purtroppo è molto frequente e sempre più frequente nei giovani d'oggi, nei ragazzi. Sì, infatti siamo alla seconda edizione, abbiamo cominciato già lo scorso anno preparando questi incontri con gli studenti appunto per rendere loro partecipi di quali sono i pericoli di una cattiva alimentazione, non solo nell'ambito della danza ma molto spesso succede anche al di fuori, in ambiti di ragazzi di tutti i giorni. Non di sola danza, si parla oggi di disturbi alimentari qui al liceo Saffi di Roseto, siamo con Mary Garrett, ballerina della Scala di Milano, oggi testimonial di questa importante iniziativa, non di solo danza, perché? Perché io sono testimonial dell'Associazione Minutro di Vita che ha il simbolo del fiocchetto lilla che rappresenta la lotta ai disturbi del comportamento alimentare, io quando avevo 16 anni ho iniziato a soffrire di questi disturbi mangiando sempre meno perché volevo dimagrire a causa della danza appunto volevo o pensavo di dover dimagrire sempre di più perché mi dicevano che c'era un problema con la mia forma fisica e quindi ho iniziato a mangiare sempre meno fino poi ad avere dei veri e propri disturbi legati all'alimentazione che sono una malattia, quindi sono diventata poi testimonial di questa associazione che va in giro per le scuole per fare informazione e prevenzione tra i giovani perché purtroppo questa è una piaga sociale ed è diventata la seconda causa di morte dopo gli incidenti tra i giovani dai 12 ai 25 anni. Proprio importante andare per le scuole, parlare con i ragazzi e illustrare e far conoscere questa malattia ma soprattutto come non cadere nell'anoressia. Sì esatto, infatti abbiamo notato che attraverso la testimonianza diretta di persone come me o tante altre degli ambienti che hanno vissuto queste problematiche i ragazzi si sentono più in sintonia e quindi cominciano a riconoscere queste problematiche di cui si parla sempre meno perché sono dei problemi proprio tabù e iniziano in qualche modo a rivolgersi alle persone preposte poi per curare queste malattie.